Scene di gioia interrompono per un momento l'escalation della guerra, grazie allo scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca. Tornano a casa 103 persone catturate dai russi, mentre altre tanti ex prigionieri sono sulla via del rientro in Russia. Le condizioni di salute di alcuni però sarebbero notevolmente peggiorate. Il ministero della difesa russo ha anche diffuso un filmato dei 103 soldati liberati. Nel messaggio viene spiegato che erano stati catturati nella regione di Kursk, dove le forze ucraine hanno lanciato la loro offensiva sorpresa due settimane fa. E' grande la soddisfazione espressa dagli Emirati Arabi Uniti che hanno dichiarato di aver contribuito all'accordo. Quello di sabato è il 57esimo scambio di prigionieri avvenuto dall'inizio della guerra.